allora signori buonasera oggi sono triste e contento allo stesso tempo mi ritrovate in maniera stile maria camillo cuffiette grande donna donna che stimo perché oggi ha detto delle bellissime parole ma belle davvero anticipato tutto quello che io volevo dire infatti se volete sentire delle cose giuste ascoltatevi la diretta di maria camillo cinzia arena allora io vi dico una cosa guardate oggi sono triste sono triste davvero perché è finita e sono anche contento perché almeno lo sbattimento è terminato e sono triste perché tante cose dette tante cose successe hanno dato un po fastidio sincero un bel po fastidio a me dispiace perché ci siamo trovati davanti a situazioni spiacevoli brutte che a volte non abbiamo neanche saputo gestire c'era tanta gente che non ha capito tanta gente che ha risposto in maniera molto cattiva perché l'invidia è una cosa brutta a volte e anche per un pacco di pasta si diventi invidiosi e questo è brutto se veniva fatto veniva fatto perché doveva avere uno scopo aiutare ma mi sa che la gente invidiosa non ha capito maria ha detto delle belle parole nella sua diretta ha detto delle cose giuste ha detto voi non avete apprezzato non avete apprezzato il gesto perché mi sa che ognuno pensa alla sua pancia quante persone sono a sansevero 54 mila 55 mila beh io ho ricevuto 100 mila richieste dalle famiglie non capisco se sono fatte a doppio o tutte quante erano bisognose io non lo so se a volte una persona ci mette del buon senso si guarda lo specchio chiede un pacco perché dice vabbè o prendo anch'io tanto ma capite che in un pacco c'erano 10 15 euro a volte ce n'erano 20 perché abbiamo implementato con la frutta abbiamo implementato con l'igiene personale abbiamo implementato con il pane fresco che il panificio rinaldi stamattina ci ha dato abbiamo implementato con la farina che il panificio buon cristiano ci ha dato perché il pane era finito abbiamo implementato con non mi viene in mente chi ha donato stamattina forse nel pomeriggio i taralli del tarallificio del panificio vicino l'ex pronto soccorso poi ringrazierò non lo so forse la gente questo non l'ha compreso era cattiva a volte abbiamo avuto la mentire nel dire io ho avuto l'acqua erano 84 signore le cassette dell'acqua 84 non era una due o cento ne erano 84 e le ha donate luciano magnolia dell mps capite questo non lo capite la farina era numerata erano 25 sacchetti da chilo non che uno voleva fare una cattiveria a me non mi è messo quello a me invece mi è messo l'altro non fate questo non dite cattiverie maria l'ha specificato avete fatto davvero un qualcosa di brutto perché ci rincuorava vedere la gente che ricevevi i pacchi durante i giorni ma oggi avete veramente superato ogni limite ci avete detto tante cose brutte e non è bello lui l'ha avuto io no non lui l'ha avuto io no non guardare lui l'ha avuto io no lui l'ha avuto perché aveva bisogno tu forse un po meno e sai a chi mi sto rivolgendo sono successe cose brutte non dovevano accadere queste cose oggi cose che non mi sono piaciute però chiudiamo questa parentesi di tristezza voglio aprire la parentesi della felicità sono contento che tante persone tanti bambini come ieri oggi tanti bambini hanno avuto il loro pacco hanno avuto il loro pane fresco perché è stato fatto stamattina quindi era fresco hanno avuto gli omogenizzati la pastina un ringraziamento grande va a giusi della tab giusi raffaele dalla tabaccheria in via foggia con la loro donazione l'hanno fatta lunedì oggi abbiamo preso quel qualcosa che mancava i bambini e nei giorni scorsi abbiamo comprato le bottigliette di quell'olio che vi è arrivato a casa mi rivolgo a voi che l'avete ricevuto sulla mia pagina taggate scrivete qualcosa che avete ricevuto erano 100 le bottigliette di olio 100 io ho mostrato alcune foto di persone che hanno voluto mettersi su internet su facebook e mettere la foto altre non hanno voluto perché un po si imbarazzavano un po la vergogna sapete questo che erano 100 le bottigliette di olio ve le sto numerando il signor micucci la famiglia micucci lello micucci ha donato 50 litri di olio sono uscite 100 bottigliette da mezzo litro ok era tutto in maniera trasparente abbiamo aiutato oggi bambini oggi ho fatto un pacco enorme ad una bambina una famiglia che aveva 4 bambini piccoli 4 bambini piccoli e uno era piccino ha avuto pannolini è tutto lo può confermare perché se guardate sui miei post mi hanno taggato con le foto io poi ve le mostrerò quelle che mi hanno inviato in privato come faccio tutte le sere attenzione a questo e vi dico di più vi dico di più è stato fatto perché la bontà di alcuni imprenditori non smetterò mai di dirlo è stata tanta io li sto pubblicizzando però è stata tanta la bonda e fidatevi tanta gente che ha dato davvero tanto giusi e raffaele della tabaccheria in via foggia hanno fatto tanto io non li ho nominati fino ad oggi raffaele notarangelo della macelleria io ho sbagliato il primo giorno che ho detto raffaele raffaele macellaio ce ne sono tanti di raffaele raffaele notarangelo ha dato una bella donazione attenzione nulla è stato lasciato a caso se avete avuto la frutta e vi mancava l'acqua è automatico perché abbiamo distribuito 210 pacchi ho fatto 210 consegne con la mia benzina ma non per avere merito per rispondere a voi che avete detto perché quello si prende il reddito signori il reddito c'è gente che prende 100 euro gente che ne prende 500 ma sono tre persone in casa con una persona adulta che hanno a carico non arrivano a fine mese non parlate soltanto sto rifacendole e ridicendo le stesse cose che ha detto maria che ha fatto una diretta da urlo e ha tutta la mia ammirazione non voglio elogi voglio soltanto farvi comprendere come è stato difficile accontentare tutti quanti ne eravate tanti io non ho detto a te sì a te no perché volevo dare il pacco a quella persona e all'altra non la potevo guardare in faccia no ho fatto il pacco perché sono arrivate richieste abbiamo cercato di darle a tutti abbiamo dato una risposta a tutti e abbiamo dato una busta a tutti ripeto busta cartone era la stessa cosa questo è per dirvi che abbiamo terminato non ne voglio sapere più io ho aiutato ho dato una mano loro mi hanno dato una grande mano attenzione loro mi hanno dato una grande mano non io io nella seconda donazione ho fatto ben poco anche se ci ho messo la faccia ogni volta il nome prendevo le chiamate quello che volete ma loro mi hanno dato una grande mano forse le persone che hanno donato tanto si fidavano anche del mio buon nome per l'amor di dio si fidavano di loro di Antonio Montedoro di Maria Castelli di Maria Camillo di Umberto Gravina di Marcello Mirando attenzione nulla è stato tralasciato abbiamo dato quello che potevamo quello che potevamo e abbiamo dato nel nostro piccolo tanto poi chi lo vuole vedere come tanto c'è anche chi lo vuole vedere come poco c'è anche la gente che non è mai contenta nel dire ma così poco davate sì forse così poco davamo ma invece non è così perché abbiamo dato tanto attenzione a questo attenzione a questo io voglio soltanto dirvi un'altra cosa e penso che voi siete talmente intelligenti che la comprendete in questo momento non si vede la quantità del pacco di pasta o del pelato o della salsa o della cassetta della frutta si dovrebbe vedere un'altra cosa si dovrebbe vedere il gesto che voi non avete compreso ma non voi che avete ricevuto perché voi ovviamente avete ricevuto voi gente che avete parlato perché c'è tanta gente estranea che non ha ricevuto il pacco e non ha parlato che ha compreso la buona azione ma voi che avete parlato parlate solo e questa è una cosa brutta io non volevo che accadesse questo ma purtroppo voi non vuoi dove mondo e paese sarebbe capitato a milano come sarebbe capitato al sud e come capita a sansevero perché vi ripeto dove mondo e paese ora maria ha dato dei suoi spluai nel dialetto ed è bello perché almeno fa capire che la terra è questa e la gente forse se non lo sente detto in maniera tozza non lo comprende vabbò allora passiamo a quel punto quel punto di contentezza era bello era bello vedere gente che ti ringraziava dopo che lo vedeva il pacco arrivare a casa ti mandavano le foto ti mandavano i post su facebook sulla mia pagina se guardate c'è gente che ha condiviso i prodotti arrivati a casa e vi ripeto si vede il pane del panificio rinaldi si vedono i taralli del tarallificio che poi vi nominerò perché mi sta sfuggendo per la testa si vede la farina del forno buon cristiano si vede tutta roba che è arrivata oggi l'altra roba io l'ho ringraziata nei giorni scorsi ma non l'abbiamo comprata l'hanno donata e voi non l'avete capito però non fa niente noi abbiamo fatto col nostro buon cuore ci abbiamo rimesso il gasolio oggi ragazzi hanno camminato per stansevero da stamattina alle 10 a consegnare a chi è arrivato prima a chi è arrivato dopo c'è gente che l'ha ricevuto alla fine erano tutti voi tutte vie sparse per il paese quindi non è che sapevi dove consegnarlo ogni volta giravi da un punto o un altro prendevi una chiamata e partiva la staffetta e grazie è arrivato grazie è arrivato è arrivato è arrivato ma la gente mi sa che nello stesso condominio aveva dei problemi vedeva arrivare il pacchetto al vecchietto e al vecchietto si prende la pensione prendere 300 euro non significa avere un pacco da 15 euro era il gesto che contava e voi sempre con quelle persone sono ripetitivo ma spero che entri in testa non l'avete compreso ma non fa niente noi accettiamo lo stesso bando a questo ragionamento bando alla tristezza non mi interessa è finita abbiamo consegnato vi ripeto 210 colli colli intendo alimenti frutto e verdura a chi è arrivato e igiene per la casa e igiene intima abbiamo consegnato a persone che avevano bambini piccini e ci rincuora la roba è finita non ne ho più l'ultima persona che ho consegnato gli ho dato un cartoncino piccino piccolo piccolo quattro pacchi di pasta due passate e un litro di latte non ho più nulla quindi domenica non venite perché non si fa niente ci avevano tagliato le gambe all'inizio abbiamo continuato gli abbiamo consegnati noi al nostro rischio e pericolo e maria ve l'ha fatto capire perché mi sa che non l'avete capito e siamo stati contenti tanta gente ha ringraziato poi vi mostrerò vi mostrerò quello che hanno visto che hanno visto rileversi a casa perché la roba la vedevano sul tavolo e come se la vedevano perché c'era tanta roba tanta tanta roba firmata meno firmata di marca meno di marca però è arrivata è arrivata e spero tanto che la gente ha mangiato la mangerà non lo so però noi l'abbiamo portata adesso è terminato non posso farlo più non lo farò più ma non lo farò neanche più perché c'è tanta gente che non ha capito il senso non l'ha compreso io non la volevo fare la diretta stasera volevo soltanto ringraziarvi dirvi grazie dire grazie agli sponsor che ho qui segnato che ringrazierò non la volevo fare la diretta perché non volevo non ci tenevo ero triste però devo farla è l'ultima che vedete perché poi non mi vedrete più non vi darò più fastidio e non voglio darvi fastidio alle nove di sera quando mangiate però sono rientrato un quarto d'ora fa ancora non mi siedo ancora non vado a fare la doccia da stamattina come ieri come ieri ma non fa niente non ci preoccupiamo noi allora dico soltanto una cosa voglio ringraziare ancora una volta e adesso il tempo di prendere il telefono perché ce l'avevo sul comorino sempre se lo trovo me l'hanno tolto telefono non c'è me lo prendete per favore grazie ho l'aiutante poi un grazie particolare lo volevo fare mia moglie ha lavorato con me peggio di me quindi vabbò comunque lasciamo stare forse è meglio sentirsi dire delle parolacce per telefono una persona laureata dottoressa che parla sarei presa non voglio neanche esprimere quello che sento lasciamo stare io voglio soltanto dire semplicemente che se avete capito avete compreso io allora guardate voglio fare ringraziamenti ce l'avevo sull'altro telefono perché mi è arrivata una foto su whatsapp ho lasciato il foglietto al capannone abbo sono sono rammaricato guardate è stata una cosa brutta sentirsi dire tante cattiverie ma come sempre sicuramente queste cattiverie se le sentirà dire anche l'assistenza sociale anche il coc se le sentirà dire quando consegneranno un pacco al vecchietto e chi sopra o sotto nel condominio vede la consegna è perché quello non capite nulla voi non capite nulla non avete compreso non solo ne stiamo non avete compreso il senso non avete compreso quello che era davvero l'aiuto voi non l'avete compreso non capite che significa non lo capite c'è gente che aveva fame gente che non mangia gente che sono due mesi che non lavora ed è brutto è brutto dice non ti arrabbiare ma come fai non ti arrabbiare come fai non ti arrabbiare senti dirti delle cattiverie per telefono ma perché 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 non solo uno sta aiutando perché se devi sentirti dire queste cose questa cosa qua vi ripeto non è che voglio dare alito a quello che aveva detto il tenente quando siamo andati a parlare con la polizia municipale con la polizia locale io umberto gravina vedi usciranno casini io lo so ha detto ma lui mi ha risposto ma anche con noi usciranno casini perché sicuramente la gente non comprende ed è vero è successo questo è successo perché la gente è stupida è stupida scusate se vi offendo ma è stupida gente che può mangiare non deve togliere il pacco ad una persona che non può mangiare io sono ho portato io a mezzogiorno un pacco ad un disabile una persona veramente stava male lei e il figlio il figlio 45 anni accudiva il padre sulla sedia a rotelle mi ha accolto con le lacrime agli occhi ma voi capite che significa oppure non lo capite voi mi sa che non l'avete capito non ce l'ho con voi che guardate perché voi che guardate state capendo cosa sto dicendo ce l'ho con quella gente che ha soltanto saputo offendere però non fa niente lo stesso noi andiamo avanti meno male che è finita meno male che è finita allora io ringrazio oggi per il latte per il latte del giudice è arrivato sulle vostre tavole se fate le foto e poi le posterò guardate c'erano famiglie con quattro bambini hanno avuto quattro litri di latte fresco quattro litri mi hanno portato cento bottiglie cento bottiglie hanno portato e tutte e cento sono andate via a chi quattro a chi tre a chi due e a chi cinque comunque voglio ringraziare denisi luigi il venditore del giudice del latte fresco volpe giuseppe mi ha dato il pane di mattinata ed è arrivato mostrate queste foto fatele vedere alla gente che non ha detto di no sicuramente il pane non è arrivato il pane è arrivato a tutti a tutti è arrivato il pane il forno buon cristiano mi ha dato un bel po di farina introvabile mi ha dato la farina qualche persona perché era poca l'ha ricevuta nelle sue cassette mostratele fatele vedere tante persone non hanno voluto essere fatte le foto però vi assicuro che la farina è arrivata in casa è tutta tutta il caro amico raffaele notarancio della macelleria l'ho ringraziato già prima perdonami raffaele se prima non ho fatto in tempo a ringraziarti nei giorni scorsi il panificio rinaldi oggi ha fatto delle pagnottine spettacolari io io non nego a dirlo ho aperto una e abbiamo mangiato un pezzo di pane quanto era calda quante ne erano 60 50 non ricordo ne saranno arrivate 49 mi prendo la responsabilità ti dico aperto una pagnotta di pane attenzione a questo non ho rubato ho aperto una pagnotta di pane attenzione la tabaccheria in via foggia di giuse e raffaele grandissimi amici fino alla fine l'ho tenuta come l'ultimo sponsor da ringraziare perché hanno fatto tanto davvero tanto il panificio nonno giulio scusa scusami davvero non ricordavo il nome avevo detto che i suoi taralli sono arrivati guardate sulle vostre tavole alcuni sì alcuni no ad alcuni è arrivato il pane di monte sant'angelo ad altri è arrivato il tarallo perché abbiamo cercato di fare una cosa equa per tutti e fidatevi che la roba è arrivata sulle tavole c'era tanta ma tanta ma tanta roba e voi che l'avete ricevuta mostratela maggiormente i primi quattro giorni oggi è andata a scalare mi dispiace se qualcuno ha preso qualcosa in meno ma è automatico la roba stava finendo però nei giorni scorsi i primi 150 pacchi mostrate se potete la roba che avete ricevuto scrivete i post sulla mia pagina che avete ricevuto la cosa perché c'è tanta gente che non ci crede non ci crede la gente è stupida ve lo ripeto di nuovo è stupida non voglio offendere non è da me offendere però la gente è stupida basta non voglio parlare più non ho capito ah e vabbè questo è un altro tipo di ragionamento gente che ha ricevuto il pacco l'ha ricevuto il pacco e fidatevi che l'ha ricevuto perché se non lo portavo io lo portavo i miei nipoti se non lo portavo il mio nipote lo portavo il ragazzo che lavora da me se non lo portavo il ragazzo che lavora da me oltre a tutti i miei grandissimi amici Maria Maria Umberto sapete che la portava mio fratello Ciro che da sistemare alle persone perché abbiamo un'onoranza ai funebri facevi il portantino col furgone oggi e ha ricevuto il pacco mi diceva io il pacco non l'ho avuto ma perché non guardi in alto perché non guardi in alto e dici a chi di dovere che stai mentendo ma non perché non voglio darti il secondo pacco perché io te ne darei anche 10 per mangiare un intero mese lo stai togliendo dalla bocca a qualcuno che aveva bisogno capito? chi non ha preso niente rispondo soccorsa ti rispondo chi non ha preso niente ti dico il perché non hai preso niente perché quando mi hai contattato o quando mi hai contattato la lista era lunga avevo ancora 40 persone da sistemare e mentre scalavo mi vergognavo a dare quel piccolo pacchettino di rimanenza che avevo alla gente non glielo volevo portare per non essere detto a quelle hai fatto la quattro buste a me ne hai fatto una piccina capisci soccorsa perché non ti ho portato il pacco ma non perché non te lo volevo dare tu stamattina mi hai chiamato Maria Castelli ti ha detto delle cose dicendo no non te lo posso dare il pacco perché così io te l'avrei portato però era talmente poca la cosa volevi una passata due pacchi di pasta e una panetta di pane del panificio Rinaldi non credo mi avresti detto perché non ti vergogni questa la devi mangiare tu ecco perché non te l'ho portato non perché non te lo volevo dare e mi dispiace di questo perché ho risposto a tutti abbiamo risposto a tutti e fidatevi la roba a casa è arrivata ed è arrivata tutta tutta ti ho detto una pagnotta di pano aperto e un pacchetto di brioche per le bambine per le nipoti cioè per i miei nipoti per le figlie di Nino che volevano una brioche basta basta neanche l'acqua dovevo siete andavo alla macchinetta a prendermi la bottiglia dell'acqua quindi non ne parliamo più mi dispiace se non ti è arrivato il pacco soccorsa parlo con te mi dispiace se non ti è arrivato il pacco non è stato un errore o colpa mia o colpa di qualcun altro se non ti è arrivato non ti è arrivato perché era poca era poca la roba quindi abbiamo cercato di fare un minimo indispensabile non voglio parlare più voglio andare a mangiare ho i miei bambini dentro hanno bisogno anche del padre anche se per un po' i capelli sono bianchi in questa settimana sono cresciuti il barbiere è chiuso quindi non posso farli guardate i pensieri erano tanti la notte non si dormiva crescevano i capelli bianchi però non fa niente siamo arrivati all'età del capello bianco allora io vi saluto ci abbiamo provato una settimana è stata dura signori adesso ci penserà il COC ci penseranno le altre associazioni che hanno avuto i permessi io non lo so chi gliel'ha dati se ce li hanno se vanno contro le regole io ho anticipato a domenica l'abbiamo fatto in questi giorni la merce è terminata hanno avuto ripeto duecento dieci persone il pacco non l'hanno avuto uno ed erano pacconi fino agli ultimi dieci che sono stati piccini ok vi abbandono non mi vedrete più non vi do più fastidio noi l'abbiamo fatto con il cuore ma davvero con il cuore noi è l'isponso con il cuore credetemi davvero senza anzi con la massima trasparenza e senza mal pensiero toglietelo dalla testa senza mal pensiero senza mal pensiero io vi saluto ringrazio un'ultima cosa fatemela dire ringrazio Aldo Massa direttore della pagina ULive grande amico mi ha supportato per tutta questa settimana gli ho dato fastidio tutto il tempo ringrazio Marcello Mirando che mi ha aiutato si è preso sabato a non lavorare mi ha dato una mano durante tutta la giornata ringrazio Giuseppe Enzo non posso dire i cognomi per non creare assembramento per non creare assembramento lavoravamo a distanza un metro e mezzo uno dall'altro però lasciamo perdere abbiamo risolto signori buonasera perdonatemi ancora una volta grazie di cuore a chi ci ha creduto salve